Era lo scorso 7 giugno quando Daniele Saltapari perse la vita a 31 anni in un tragico incidente stradale lungo la provinciale della Libia, all'altezza di Campolucci, frazione dove il giovane viveva con la sua famiglia. Adesso, per la morte del 31enne, la PM Chiara Pistolesi ha chiesto il rinvio a giudizio del conducente dell'autocarro che trasportava materiale da giardinaggio con il quale è avvenuto lo scontro. L'accusa è quella di omicidio stradale. Durante le indagini preliminari era stata ricostruita la dinamica dell'incidente esaminando gli esiti dei rilievi della Polizia Municipale, le planimetrie e foto e video di telecamere di videosorveglianza. La PM aveva anche conferito un incarico per un accertamento irripetibile all'ingegner Fabio Canè. Sarebbe così emerso che l'autocarro avrebbe iniziato la manovra di svolta sinistra prima del previsto, tagliando in diagonale la strada provinciale della Libia. Nella manovra non avrebbe prestato attenzione alla vittima in sella la sua motocicletta, che stava arrivando da dietro ed era in fase di sorpasso. All'altezza dell'intersezione, con la strada comunale di Patrignone, l'impatto fatale per il 31enne non ci fu niente da fare. L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 26 marzo.